Adesso, un lento, no, adesso diamo tempo ai nostri ragazzi di raggiungere la meta, quindi la facciamo velocemente, corri corri corri, questo manca capodanno, dai mica questa mia vita, vai vai vai, ecco di che corrono velocemente, arriva di cance, il nostro corpo di ballo, la nostra crew, ciao ballo, ciao ballo, è il ritmo, è la gasolina, la gasolina, la gasolina, la gasolina, ciao grazie per essere stata con noi, la carovana del giro con tutto il suo entusiasmo, che succede Barbarilla? Allora, stanno raggiungendo, stanno raggiungendo la linea di arrivo, lei si fa ogni volta dei muscoli incrementi, è l'acqua, è l'acqua, è l'acqua, l'acqua lauretana, l'acqua. Dove vai? Caravana, sei la più bella di sempre, caravana, sei la più bella di sempre. Salsato, non sento l'energia, l'entusiasmo. Le mani, le mani a testo. È arrivata la festa. È arrivata la festa. Tanto, scusa, voglio ricordare la nostra musica, RDS, la radio ufficiale del Giro d'Italia. Vi aspettiamo anche quest'estate, perché quest'estate è l'estate RDS. Siamo pronti, i ragazzi sono prontissimi, quindi vogliamo stupirvi con questo spettacolo meraviglioso che portiamo in giro, in lungo e in largo per tutta l'età del Giro d'Italia. Quindi, regia, pureo! Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.